Decorazione per Pasqua. Cosa serve? Dei nidi. Io faccio la raccolta collezione, poi ho qua due libri, adesso vi faccio vedere perché ho qua due libri. Le ho messi l'altro giorno, guardate, sono sottili, sottili, sottili. Adesso li stacco piano piano e qua ho anche le violette. Qua abbiamo le uova fresche e qua invece abbiamo le uova di cioccolato, che sembrano però le uova. Queste sono le uova di cioccolato e queste sono le uova fresche. Adesso l'idea è quella di bucarle. Ho trovato questo, non ho trovato altro per provare a bucarle. Un buco di qui e un buco di lì e poi soffio. Missione compiuta, ho fatto due buchi, sotto un po' più grande per far uscire tutto l'uovo e sopra più piccolino. Adesso vediamo. Con questo attrezzo ho bucato l'uovo e perché ho dovuto mischiarli perché altrimenti mica soffiando usciva tutto l'uovo. Non riesco a farvelo vedere con una mano sola, comunque questo è l'uovo bucato e con la colla, tipo queste qui da cartoleria, sto attaccando i vari fiorellini che sono leggerissimi, mi ne va pochissima. E' venuto, sta venendo carino. Vedete la colla lì? Ok. Quindi adesso poi lo andremo a posizionare all'interno del nostro nido. Poi andrò a prendere questa invece che sono di cioccolato fondente e le vado a mettere insieme. Mi piace, mi piace tantissimo. Et voilà, la mia tavola, il mio centro tavola di Pasqua è completato. Prima vi ho detto, l'altro ieri, no no, c'è voluto solo un giorno. Ieri le ho fatti essiccare i fiorellini, quelli piccolini, perché sono talmente piccoli. E anche la violetta è venuta bene, ovviamente ho incollato anche il gambo, altrimenti... Mi piace... Oh, lo sentite l'edrovolante? C'è sempre, eh? Io lo registro, lui passa. Buona Pasqua!